E' un giorno speciale, si festeggia la soluzione del Napoli, di Cannavaro, di Grava e allora entriamo in questo centro commerciale perché non ci sarà nemmeno la crisi oggi e andiamo a sentire che cosa pensano i tifosi del Napoli. Ci voleva, perché ci tolgono punti che alla fine sono i nostri? Non era colpevole nulla, né i due giocatori né tantomeno la società, quindi è una sentenza che non fa altro che fare giustizia. Credo che sia stato il primo caso in cui una società venisse penalizzata durante il campionato. Mi è festeggiato, ho risultato come se il Napoli l'avesse segnato, è stata un'emozione, alla fine è come se il Napoli l'avesse segnato veramente. Poi i Cannavaro, Grava, voglio dire, sono il simbolo della nostra Napoli. E' un segreto, ho festeggiato con mia moglie. Ero in caserma, l'abbiamo festeggiato con tutti i colleghi. Brindisi, champagne? No, senza. Dopo vince lo Scudetto? Pescare la manzia? Dico di no. Lo Scudetto è alla portata e quindi dipende da quello che oggi, dipende da adesso che i giocatori la concentrazione che avranno fino alla fine del campionato. Non si dice. Quindi speriamo, speriamo bene. Siamo lì, dobbiamo continuare così.